Musica Bentrovati, buon sabato, siamo in diretta come ogni settimana. Fra Ezio, bentrovato, pace e bene. Pace e bene a te Leo, pace e bene a tutti e ben ritrovati. E dunque l'ultima puntata del 2021, settimana prossima la grande festa del Natale che ci vedrà tutti insieme, in qualche maniera, attorno alla tavola, attorno alla mensa del Signore, anche per questo appuntamento così bello. E noi in questa giornata vogliamo partire con una figura che nel Natale potremmo dire ha anche tanta della sua spiritualità. Ed è una persona che è tanto cara, ovviamente, non solo ai nostri telespettatori, ma anche a tanti che lo hanno conosciuto in via incidentale o comunque direttamente. Stiamo parlando di Fra Modestino. E questa mattina vogliamo parlare di questo rapporto di Fra Modestino con il Natale partendo da quello che ci dirà il vice postulatore della causa appunto di Fra Modestino che è Fra Nazario Vasciarelli, a cui diamo il benvenuto perché è collegato con noi tramite Skype. Pace e bene Fra Nazario, bentrovato. Buongiorno, pace e bene, saluto tutti. Grazie. Allora, noi Fra Ezio prendiamo il nostro posto, la nostra postazione per parlare di questo editoriale. Partiamo da questo, ecco, che Fra Nazario ha scritto per il bollettino della vice postulazione intitolato Natale, festa del creato, che racconta di una frase di Modestino in rapporto appunto a come intimava, potremmo dire, anche di vivere il Natale. Fra Nazario, allora, a te la parola, raccontaci un po' di questo rapporto del Natale con Fra Modestino. Il rapporto di Modestino con il Natale lo possiamo capire soprattutto dalle sue riflessioni. e ho trovato dai suoi scritti, dal suo diario, un diario abbastanza corposo, ho trovato questo suo scritto del primo dicembre 1996, che fa emergere un po' la ricchezza della spiritualità di Modestino, la sua ricchezza spirituale e poi come lui voleva che si celebrasse il Natale. La frase di Modestino è questa, la leggo. Il creato fa festa, scende dal trono celeste, creatore del cielo e della terra, scende in mezzo agli uomini per comunicare il suo amore. Non si fa scoprire che si è fatto bambino, ma sono gli angeli che lo annunciano. Nella squallida povertà ha voluto nascere, dai semplici si è fatto conoscere, dai pastori ha voluto farsi adorare. Gli angeli con la loro luce hanno illuminato la grotta, i loro canti hanno sbalordito i secoli e le loro voci hanno pronunciato gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Battete le ari o bimbi innocenti, cantate inni di gioia per il creatore del cielo e della terra, che si è fatto bimbo per stare con voi e in mezzo a voi per la vostra innocenza. Fra Modestino, primo dicembre 1996. E allora io evidenzierei di questo scritto di Modestino innanzitutto l'umanità di Gesù. Fra Modestino sottolinea in maniera bellissima, proprio in maniera precisa, da buon teologo l'incarnazione del bambino Gesù. E poi due caratteristiche. L'umiltà del figlio di Dio e la povertà. Questa umiltà che si vede nel silenzio del bambino Gesù, il figlio di Dio che viene annunciato dagli angeli. Sembra che questo bambino abbia quasi vergogna di entrare nella storia dell'umanità. Ma sono gli angeli, ognuno il suo compito, sembra dirci Fra Modestino, sono gli angeli messaggeri di Dio a parlare di Dio, di Gesù, a dire la verità sulla verità, che il mondo sta per riprendersi la sua antica dignità. Gesù, l'amore, entra nella storia dell'uomo per sconviggere il mistero del male. Non è questa la ricchezza della teologia di Modestino, una teologia vissuta, fatta carne nella sua esperienza di frate minore Capucino. E poi la povertà. Gesù non nasce a Gerusalemme, non nasce a Roma, non nasce nel centro del potere degli uomini, ma a Betlemme. E interpreta Modestino il testo del profeta Michea, Tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. E' bellissimo tutto questo, no? E sono convinto che Modestino, anche perché io sono il vice postulatore, e per tanti versi mi dispiace non essere testimone nel procedimento per scandagliare le virtù di Fra Modestino. Però ognuno deve fare il suo. E allora, però io posso dire, essendo stato guardiano di Fra Modestino, che il primo anno è stato qualcosa che mi ha preso nel cuore. Io ho delle bellissime immagini che sono chiaramente dell'archivio di voce di Padre Pio, che io con il piviale, vestito solennemente nella notte del Natale per presiedere l'Eucarestia, io ricevo il bambino da Fra Modestino, quello stesso bambino che era portato da Padre Pio. Cioè che legame straordinario. Guardate, non ci può non essere commozione per questo. Il bambino che era portato da Padre Pio passa nelle mani di Modestino, dalle mani di Modestino passa nelle mie mani. E per presentarlo al popolo santo di Dio, con i miei confratelli, ci sono delle bellissime immagini che raccontano di questo mio primo Natale lì a San Giovanni Rotondo. Padre Nazario, a me piacerebbe sottolineare una frase che è riportata in questo messaggio che l'abbiamo adottata in un qualche modo come slogan per questo nostro programma. Abbiamo parlato di questo nostro programma come una vera e propria scuola d'amore. Allora dice Creatore del cielo e della terra scende in mezzo agli uomini proprio nel primo rigo per comunicare il suo amore. Chiaro che gli uomini di Dio sono uomini che sono innamorati dell'umanità e questo penso che Modestino tu lo stai ben dicendo adesso anche in questi piccoli gesti nel portare all'altare il bambinello. Quella è un'adesione, un riversarsi dell'amore nell'amore. Ecco, dici un pochettino su questo. Ezio, io sono convinto che è la nostra scuola francescano-capucina che ci immerge nel mistero dell'umanità. Francesco di Assisi andava a toccare quelli che erano gli elementi più belli dell'umanità. E allora, se il potere si giocava a Roma, a Gerusalemme, il nostro Signore nasce a Betlemme. Francesco vive il suo Natale a Greccio. Riporta l'esperienza del bambino Gesù ma con quelli che sono gli elementi dell'umanità. L'umanità, la festa, la gioia, la povertà. La povertà. Io ho sottolineato anche in questo editoriale l'immagine della Madonna poverella. ho ripreso quello che Francesco di Francesco meglio dice Tommaso d'Acelano nella sua seconda vita parlando della vergine poveretta dell'indigenza di Cristo e Francesco si commuoveva pensando dopo tanto tempo come Gesù ha vissuto nel disagio. e Francesco una volta che mentre si leggeva questo continuò a mangiare il resto del suo pane ma si tolse dalla mensa si sedette sulla nuda terra e io vedevo spesso che Fra Modestino nella sua povertà viveva anche la povertà del bambino Gesù. Questo non è poesia è una realtà che abbiamo potuto constatare vivendo accanto a lui. Bene allora Fran Nazario noi ti ringraziamo per essere stato con noi in questa mattinata che abbiamo voluto introdurre con questo racconto chiamiamolo così di Fra Modestino e del Natale un racconto che poi ci lega anche strettamente alla vicenda anche di Padre Pio avendo condiviso sia Padre Pio che Fra Modestino le stesse radici e potremmo dire che tanta parte di questo amore per il Natale viene anche da come si celebrava all'epoca Pietrelcina il Natale e allora noi ti auguriamo buon Natale buone feste a te a tutti coloro i quali seguono la causa di Fra Modestino e ci rivedremo ovviamente subito dopo le feste natalizie per continuare a parlare di questo bel personaggio che davvero affascina tante tante persone non so vuoi aggiungere qualcosa? Permettetemi vorrei chiudere io con un augurio in risposta all'augurio che tu facevi a me e a quanti stiamo lavorando collaborando per per la causa di Fra Modestino per la causa no e voglio dire una cosa quello che io ho scritto è l'editoriale della rivistina piccolina della postulazione della vice postulazione per cui chi volesse ricevere questo giornalino lo può richiedere o attraverso i social alla nostra redazione oppure attraverso Padre Pio TV benissimo chiedo anche uno sforzo di collaborazione anche a voi vi dico vi dico che il Signore sta facendo grandi cose attraverso Fra Modestino non vi posso dire molto perché c'è qualcosa una piccola novità di questi giorni sulla quale devo investigare e allora la custodisci come come un presepio sotto l'albero per poi dirci altro a gennaio va bene Padre Nazario grazie ciao Ezio ciao Leonardo un abbraccio un abbraccio Padre Nazario auguri pubblicità ora pace bene ed eccoci di nuovo insieme in questa puntata che si situa potremmo dire alla vigilia del Natale dopo aver parlato di Fra Modestino vogliamo ora introdurre una nuova figura Fra Ezio qui nel nostro programma stiamo parlando di Luisa Piccarreta vogliamo ascoltare una breve biografia Luisa Piccarreta nacque a Corato la mattina del 23 aprile 1865 la sua formazione scolastica si fermò al primo anno di scuola elementare per poter condurre la vita contadina della sua famiglia la domenica in Albis del 1874 Luisa ricevette all'età di 9 anni i sacramenti della prima comunione della Cresima da allora in poi la sua fede si intensificò rimanendo assorta continuamente in preghiera meditando in particolare sulla passione di Cristo adorando spiritualmente l'Eucharistia e coltivando una solida devozione alla Madonna che la spinse a iscriversi all'associazione delle figlie di Maria a 13 anni mentre meditava sulla passione di Gesù si sentì il cuore oppresso uscì dal balcone di casa e da lì ebbe una visione la strada era piena di persone che spingevano Gesù sofferente e insanguinato mentre portava curvo la pesante croce sulle spalle allora Cristo alzò gli occhi verso di lei in atto di chiedere aiuto e Luisa ebbe compassione e si offrì vittime spiatrice per i peccati che schiacciavano il Redentore divenne terziaria dominicana con il nome di Maddalena ma ebbe da Gesù una missione particolare utile nella piccola prigione del suo letto Gesù le fece conoscere il suo desiderio di riportare l'umanità all'ordine e allo scopo per cui fu creata ossia nella sua divina volontà il 28 febbraio 1899 il secondo confessore le ingiunse di scrivere quanto succedeva tra Gesù e lei e le grazie che riceveva continuamente dal 28 febbraio 1899 al 28 dicembre 1938 scrisse importanti rivelazioni in un manoscritto di circa 10.000 pagine Sant'Annibale Maria di Francia fu suo confessore straordinario e censore dei suoi scritti la incoraggiò a scrivere tutto ciò che succedeva tra lei e Gesù senza tralasciare nessun particolare il 7 ottobre 1928 a Corato si completò la costruzione della casa delle suore della congregazione del divino zelo dove Luisa Piccarreta fu trasferita dopo la morte di Sant'Annibale Don Benedetto Calvi l'ultimo dei suoi confessori le ingiunse di scrivere l'ultimo capitolo del suo diario muore il 4 marzo 1947 a 81 anni dopo una breve e fatale polmonite e di Luisa Piccarreta vogliamo parlarne con il vice postulatore della causa Don Sergio Pellegrini che è collegato con noi tramite Skype buongiorno e bentrovato buongiorno buongiorno a tutti grazie grazie per aver accettato il nostro invito e allora Don Sergio io partirei da questa spiritualità di Luisa ti chiederei di aiutarci in pochi minuti a capire effettivamente Luisa chi e cosa è stata l'esperienza di Luisa Piccarreta è un'esperienza che ha due binari potremmo dire uno è quello dell'esperienza mistica e quindi come le mistiche del novecento accompagnate anche da una serie di fenomeni mistici che sono noti anche in relazione alla vita di Luisa l'altro filone invece è quello legato agli scritti Luisa ha scritto per obbedire al suo padre spirituale circa 10.000 pagine di diario e diciamo così che mentre da noi nella nostra terra è più famosa Luisa per la prima esperienza cioè quella mistica dei fenomeni mistici tanto che Accorato era chiamata Luisa la Santa mentre invece all'estero in tutto il mondo è più conosciuta per i suoi scritti per il diario oltre poi ad alcune opere come l'orologio della passione e la vergine Maria nel regno della divina volontà insomma la biografia di Maria che lei ha scritto volute tra l'altro da padre Annibale e Maria di Francia questi scritti sono molto molto diffusi e queste due realtà chiaramente vanno insieme il dato biografico e il dato bibliografico si intrecciano evidentemente nella vita di Luisa gli scritti fondamentalmente hanno come tema quello del vivere nella divina volontà Luisa distingue un fare la volontà di Dio come come un servo che obbedisce al suo padrone invece vivere nella divina volontà è la dimensione del figlio evidentemente Gesù che vive nella volontà del padre per cui ha un approccio più ampio alla volontà di Dio per cui è una rivisitazione di quella che è la dottrina classica sull'obbedienza alla volontà di Dio però in una chiave esistenziale per questa ragione anche il suo pensiero è molto semplice quindi viene assunto molto facilmente anche chiaramente essendo scritti mistici chiedono anche una certa attenzione soprattutto all'interpretazione chiaro Don Sergio vorrei chiederti molto velocemente guardando anche all'immagine della Luisa io ho avuto modo di conoscerla vagamente con qualche accenno da parte di padre Bernardino e conoscendo Luisa in poche parole noto che c'è un carattere tipicamente del Signore che è quella della sofferenza che è una tematica che ci sta accompagnando anche nei diverse figure di santità che stiamo trattando in questo programma ecco richiamerei piuttosto il Natale cioè il bambino è adagiato in una mangiatoia povero no? ecco Luisa è adagiata su un letto della sofferenza come l'ha segnata questo letto della sofferenza? è un'esperienza che l'ha segnata dalla sua giovinezza perché il Signore Gesù le chiede questo Luisa ce lo scrive nel diario nel primo volume in modo particolare del diario Gesù le chiede proprio di restare a letto la spiegazione di questa di questa esperienza mistica che poi diremo brevemente è legata al fatto che Gesù vuole rendere la segretaria della Divina Volontà cioè vuole che Luisa sia in qualche modo meno impegnata che nella vita attiva di come si può essere nella vita attiva proprio perché si possa dedicare in maniera particolare a questa scrittura ecco diciamo veniva svegliata dal confessore con una benedizione se non c'era questa benedizione del confessore Luisa restava praticamente a letto come un pezzo di come una statua e quindi cadeva in questo solito stato la sera e se il sacerdote la mattina non si recava da lei per benedirla non poteva rinvenire poi veniva adagiata a letto in quella posizione in cui voi l'avete vista nelle immagini cioè seduta e così rimaneva tutto il giorno la sua attività diciamo giornaliera era quella di tombolista era una ricamatrice e quindi accoglieva le ragazze era una insegnante di tombolo e poi la sera ecco sistematicamente cadeva in questo quello che lei chiamava il solito stato ecco Don Sergio allora questo misticismo ecco di Luisa come si innesta appunto nella sua vita personale tu ci hai dato già qualche accenno ecco e poi ti chiederei cosa ci lascia ora questa figura che come hai detto tu vive potremmo dire la cui spiritualità potremmo dire vive su due binari prima di tutto questa esperienza mistica legata anche ad altre esperienze diciamo altri fenomeni mistici per esempio Luisa mangiava pochissimo quello che mangiava quasi subito lo rimetteva e questa è una cosa che colpiva sempre tutti i presenti oppure per esempio come anche in altri mistichi conoscenza di fatti tra l'altro c'era anche una relazione molto speciale con Padre Pio perché Padre Pio diceva sempre ai coratini che andavano lì a San Giovanni ma perché venite da me avete accorato la santità vivente ecco in realtà questo misticismo questa esperienza mistica di Luisa è irripetibile evidentemente legato alla sua persona quindi anche quell'esperienza di sofferenza del letto è irripetibile è legata a una specifica ragione che abbiamo detto degli iscritti oggi noi possiamo approcciarci agli iscritti possiamo leggerli noi diciamo sempre di leggerli possibilmente accompagnati da un sacerdote possibilmente in una formula comunitaria quindi in un cenacolo così come avviene generalmente nel mondo e chiediamo anche che questi iscritti diventino vita cioè che non sia soltanto una riflessione una così a eccitare magari le corde della mente ma soprattutto poi a metterli in atto per esempio Luisa diceva sempre di fare gli atti nella divina volontà può sembrare una banalità ma ecco dico come lei lo raccontava dice quando si fanno le cose durante la giornata chiedere a Gesù di farle con noi e lei per esempio quando da bambina si sedeva alla sedia lui stesso lo racconta nel suo diario si sedeva sempre su una mezza sedia occupando una mezza sedia e quando le dicevano perché non ti siedi comoda sulla sedia e lei diceva perché Gesù viene a sedere con me nel fare i lavori per cui ecco chiedere a Gesù di lavorare insieme chiedere a Gesù di parlare con noi di pensare con noi addirittura lei arriva a dire anche di respirare con noi ecco di vivere una vita con Gesù e questo è vivere nella sua volontà divina è chiaro che poi i passaggi diciamo di questa dottrina che possiamo chiamarla così poi si approfondiscono negli scritti sì ecco la tematica Don Sergio quella della contemplazione io anche la guardo sempre così un po' come ce l'hai detto tu contempl trattino azione cioè mai distaccare la preghiera dall'azione ecco Marte e Maria diremmo in un qualche modo quindi questo e poi è bello sentirti dire anche questo fatto del respirare con Gesù che è tipicamente legata anche a quella che è una preghiera che è del cuore che diviene vita per cui Gesù lo trovi nel lavoro Gesù lo trovi nella preghiera Gesù lo trovi nell'incontro con l'altro quindi penso che questa esperienza mistica sia legata molto a questa dinamicità di cui tu parlavi e correggerei anche un po' il tiro di Leo che parlava di misticismo perché io ho sempre un pochettino di perplessità quando si parla di misticismo lo vedo molto negativo ma il campo della mistica è proprio questo cioè Marta e Maria contemplare e agire le due dinamiche assolutamente un'esperienza reale di Dio cioè non è soltanto qualche cosa che si riflette o una dimensione interiore ma è essere immersi completamente in Dio a tal punto come usa spesso Luisa dire da essere posseduti da Dio cioè diventare un tutt'uno lei parla del fondersi anche questa è una dottrina come accennavi tu antica presente diciamo così in tutto il filone sia anche orientale che occidentale della spiritualità questo fondersi proprio essere una cosa sola in modo particolare con l'umanità di Gesù per cui Luisa spesso usa questa espressione molto forte ma natalizia potremmo dire in noi si prolunga l'umanità di Cristo e quando lei lo contempla bambino sente che in quel bambino c'è tutta l'umanità è tutta l'umanità che geme è tutta l'umanità che ha freddo e che attende di essere consolata alla fine anche delle nostre storie poi fra Ezio chiudiamo con Don Sergio emerge il fatto che i Santi sono una filigrana attraverso cui puoi vedere effettivamente chi c'è dietro che è Dio l'esperienza di Luisa credo che da questo punto di vista sia molto molto eloquente noi Don Sergio ti ringraziamo per essere stato con noi in questa mattinata e ti chiediamo di renderti disponibile per il futuro perché torneremo sicuramente a parlare di questa bellissima figura approfondendo ancora di più i tratti di questa grande mistica che ha davvero tocca il cuore di chi ne sente parlare grazie ancora e cogliamo anche l'occasione per farti gli auguri di Natale esatto grazie grazie molto volentieri accolgo l'invito a presto allora grazie faccio bene grazie linea alla pubblicità eccoci insieme nell'ultima parte del nostro programma che dedichiamo come al solito alla Santità Giovane ma prima di parlare della prossima figura ecco diamo notizia del fatto che Papa Francesco ha autorizzato la congregazione delle cause dei Santi a promulgare alcuni decreti riguardanti la santità di alcune persone in maniera particolare due miracoli attribuite all'intercessione di una beata la Maria Rivier e di Maria Carola Cecchin e poi ancora le virtù eroiche del servo di Dio Andrea Garrido Perales le virtù eroiche di Fra Carlo Maria da Abbiate Grasso di cui stiamo per vedere un'immagine un frate minore Cappuccino che ecco sarà presto annoverato tra i venerabili e poi ancora altri due virtù eroiche del servo di Dio Bernardo Sartori e di Maria Margherita del cuore di Gesù agonizzante nell'orto del Gezzemani ecco dunque l'albo dei Santi dei venerabili dei beati si arricchisce di nuove figure molto molto importanti nuovi testimoni di Santità ma noi questa mattina vogliamo parlare come dicevamo di Santità al giovanile come sempre e la figura che vi proponiamo è quella di Paola Adamo ascoltiamo insieme alcuni brevi stralci della sua vita Paola Adamo nacque a Napoli il 24 ottobre 1963 i genitori entrambi architetti di professione erano anche salesiani cooperatori e catechisti Paola li amava tanto a loro dedicava le sue poesie frequentò lezioni di danza classica e per tre anni praticò il nuoto la sua incontenibile gioia di vivere era espressa anche nei contatti con le sue compagne di classe a cui voleva molto bene sensibile e intelligente già nove anni iniziò a scrivere un diario segreto una fonte di pensieri e di massime molto profonde a dispetto della sua età ogni sera leggeva qualche pagina della biografia di San Giovanni Bosco scritta dal cardinal Carlo Salotti e faceva l'esame di coscienza con molta attenzione una mattina di giugno 1978 quando stava per terminare l'anno scolastico Paola chiese ai genitori il permesso di non andare a scuola diceva di avere un dolore al fianco destro la madre acconsentì mentre il padre inizialmente non le credette e le disse di andarci la sera del 9 giugno mentre era seduta in poltrona Paola sentì freddo i suoi videro che aveva la febbre ma ciò nonostante partirono ugualmente per Napoli dove avrebbero dovuto trascorrere le vacanze una volta tornata a casa la sua situazione non migliorò venne ricoverata in clinica dove il medico le diagnosticò un'epatite virale malattia che Paola aveva già avuto da bambina il giorno dopo la diagnosi fu confermata ma la ragazza era ormai in stato precomatoso dopo due ore di viaggio fu riportata a Napoli la sera del 25 giugno venne ricoverata all'ospedale Cotugno fu portata in rianimazione mentre i genitori aspettavano pregando il 28 giugno 1978 all'età di 14 anni Paola lascia questo mondo e Paola Adamo la figura giovanile di cui parleremo oggi a parlarcene sarà proprio il vice postulatore Don Martino che è in collegamento con Skype è in linea Don Martino sì pace bene a te Don Martino buongiorno partiamo subito con una spennellata diremmo così di questa figura giovanile parlaci un pochettino di Paola sì Paola è una ragazza nata a Napoli e morta a Napoli ma vissuta sostanzialmente a Taranto per tutta la sua vita nata da due genitori entrambi architetti e sceglierà di intraprendere anche lei questa professione anche se poi chiaramente non potrà realizzare pienamente questo suo sogno perché il signore aveva altri progetti per lei fortemente voluta dai loro genitori e dai suoi genitori Paola si distingue per potremmo dire una spiccata fantasia una grande generosità ma soprattutto l'amore forte per suo papà e sua mamma ed è proprio su questo da questo punto di vista che noi possiamo dire che la santità di questa ragazza si radica all'interno di una famiglia santa o di una famiglia che ambiva la santità di una famiglia che nella normalità della sua quotidianità non lasciava nulla al caso ma tutto era potremmo dire tutto era studiato tra virgolette tutto corrispondeva alla grazia di Dio tra poco uscirà tra l'altro un breve saggio un breve libro insomma sulla vita dei genitori di Paola il papà purtroppo non c'è più papà Claudio e voglio soltanto raccontarvi questa cosa che mi colpì particolarmente quando Paola era piccola era bambina andava sempre con i genitori non c'erano babysitter non c'erano persone non c'erano nonni perché erano lontani i nonni paterni sicuramente erano a Napoli per cui la bambina stava sempre con i genitori e quando il papà un noto architetto insieme alla mamma dove avevano appuntamenti importanti come con il sindaco eccetera Claudio portava sempre con sé Paola perché quando Lucia la signora Lucia la mamma di Paola diceva Claudio ma sistemiamo in qualche modo Paola Claudio rispondeva dice ma perché dovrei sistemarla dice questa è la mia più grande opera che il signore mi ha permesso di fare perché non dovrei metterla in mostra perché non dovrei portarla con me per cui c'era questo forte attaccamento questo desiderio di generare gioia tant'è che Paola questa cosa lo scriverà in uno dei suoi testi ci rilascia alcune poesie temi scolastici bigliettini che era solita lasciare come messaggio di amore di attenzione di richiesta di scusa qualche volta ai suoi genitori ecco una santa della gioia potremmo definirla qualora la chiesa vorrà anche offrirla come come mezzo come strumento come modello soprattutto di santità per i nostri giovani e per le nostre famiglie ma sicuramente è già in paradiso Don Martino a me colpiscono molto due caratteristiche della vita che poi sono anche caratteristiche della spiritualità di Paola vale a dire il dialogo e la donazione perché permettimi questa definizione non so se sbaglio Paola era maestra di dialogo donandosi agli altri ecco vorrei che ci raccontassi un po' di queste due caratteristiche sì maestra di dialogo perché lei stessa lo scrive in un tema tra l'altro parlando dei problemi fra giovani e genitori lei dà come soluzione alla crescita anzi magari lo prendo proprio perché adesso mi sfugge questo passaggio per iscritto però Paola dice sostanzialmente che ogni figlio desidera essere attenzionato dal proprio genitore e che molto spesso purtroppo per via del lavoro per via di altre necessità viene a mancare questo dialogo altra espressione di dialogo lei lo usa nella scuola divenendo alle volte un po' anche potremmo dire una contro il bullismo all'epoca non si chiamava bullismo ma c'era sicuramente e quindi Paola diventa un po' l'amica inclusiva all'interno della sua classe lei frequenterà il liceo artistico di Sippo di Taranto per il primo anno per i primi due anni poi il signore la chiamerà attraverso una meningite fulminante però comunque sia aveva questa caratteristica quella di richiamare tutti al confronto ad essere a mettersi al confronto a parlarsi schiettamente perché poi era una persona che diciamo non riusciva a tenere a freno la lingua tra virgolette nel senso che una cosa che doveva dirla la diceva quindi se doveva prendere di petto qualcuno che dava fastidio alle sue compagne di classe che magari le ridicolizzava lei pubblicamente cercava di intervenire quindi una cittadina potremmo dire anche modello riguardo a questo per quanto riguarda il dono lei andava alla ricerca della donazione perfetta della sua vita anche anche nelle cose più semplici anche quando magari realizzava delle poesie realizzava dei biglietti realizzava delle sculture una è stata proprio realizzata prima di morire era per la festa della mamma realizzata dalle sue mani perché lei diceva io potrei potrei comprare qualunque regalo ma ciò che io faccio con le mie mani è l'espressione del mio cuore per cui aveva questa capacità di capire che più che l'oggetto era la donazione di se stessi che doveva essere posta in essere e doveva essere messa in campo e riguardo sempre alla donazione il discorso della donazione io credo che si radicasse fortemente all'interno della della famiglia cristiana nella quale Paola è nata e cresciuta una famiglia fortemente influenzata e caratterizzata dalla famiglia salesiana perché i genitori erano cooperatori salesiani poi anche lei respirerà potremmo dire quasi tutta la la saggezza la bellezza della spiritualità della spiritualità salesiana molto bello Fraezio non so se vogliamo io prenderei al volo un pochettino questa parte che diceva Don Martino diviene una provocazione diciamo Paola per oggi direi sempre provocazione con un trattino sempre in mezzo per fare un po' giochi di parole perché oggi siamo abituati con i social a non dialogare a non donarsi ecco penso che anche in questa cornice del Natale Leo diviene opportuno sottolineare questo aspetto cioè quella parola che si fa vita concreta carne il dialogo diviene questo e Paola è un esempio concreto diviene una provocazione per i giovani quindi chiederei Don Martino proprio andando verso la fine con una parola di dirci di Paola una sola parola che possa arrivare anche come un augurio ai nostri cari telespettatori per il Santo Natale ecco io parto da una poesia che Paola scrive da una riflessione che Paola scrive come regalo di Natale e scrive questo è molto breve il Natale è il momento in cui ognuno si sente felice è l'unico momento in cui non ci si sente non si sentono distrinzioni nasce colui che ci salverà Cristo Gesù il Natale è l'amore la comprensione la serenità di Cristo e poi continua mi fermo su questo termine la comprensione perché a Paola è molto caro lo scriverà più volte anche in un tema e la comprensione la chiede come dono per se stessa e dice nel dialogo la comprensione la capacità di comprendere l'altro è fondamentale e non è forse quello che ha fatto Gesù Cristo con noi quando sull'alto dall'alto della croce ha detto padre perdona loro perché non sanno quello che fanno è molto strano che una ragazzina di questa età arrivi a scrivere questa parola la comprensione che generalmente non è nel linguaggio nel lessico religioso è qualcosa che noi abbiamo diciamo viene messa quasi sempre un po' in disparte e quindi l'augurio di Natale che ci sia la comprensione la comprensione generata dall'ascolto dalla capacità di incontrare l'altro di capire l'altro e di amare l'altro profondamente grazie Don Martino questo può essere un augurio bellissimo che rivolgiamo ai nostri telespettatori andiamo verso la chiusura l'ultima frase concedetemela vai se credi in Dio hai il mondo in pugno benissimo e non c'è chiusura migliore allora Fra Ezio ringraziamo Don Martino gli auguriamo ovviamente un buon Natale ci riaggiorneremo ovviamente dopo le feste per continuare a parlare di Paola Adamo noi ritorniamo al centro e anche noi ovviamente Fra Ezio in chiusura con oltre al classico pace e bene auguriamo gli auguri di buon Natale un buon Natale a tutti e veramente che sia un anno di serenità per tutti grazie e bene grazie grazie a tutti